buongiorno eccomi qua a santa maria in fiore a firenze dove sto per partire con la via degli dei al contrario quindi da firenze a bologna dove raggiungerò lungo la strada paolo monesi con l'iniziativa plastic free che sta seguendo la via degli dei appunto da bologna a firenze per raccogliere plastica e rifiuti ripulire questo bellissimo sentiero io lo raggiungerò nel primo pomeriggio e da lì poi percorrerò con lui camminando e ripulendo la via degli dei fino di nuovo a firenze che raggiungeremo domani qui ci sono un po' di animali feroci ok 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 guardate che bellissimi capperi allora oggi mi si è già nella prima mezz'ora mi si è già inchiolato il garmin e la gopro lo vediamo cosa succederà nelle prossime ore intanto sono sul percorso escursionistico per fiesole e sto seguendo le indicazioni dei cartelli perché il garmin non risuscita a dopo e si sale a fiesole ok sono arrivato a fiesole in giro da sette chilometri ma il viaggio inizia adesso vediamo se il garmin se rimette a funzionare e impostiamo la via degli dei dei finalmente dopo mezz'ora di imprecazioni il garmin ha iniziato a funzionare almeno ha ripreso la traccia della gara e vediamo dove mi porta ecco Firenze Firenze dall'alto il garmin ha preso la traccia ha preso la traccia della gara dell'ultratrail via degli dei speriamo che sia la stessa della via degli dei e da fiesole è tutto andiamo a incontrare Paolo appena incontrato i ragazzi che loro stavano facendo la via degli dei e così chiacchieravamo un po' intanto qua ci sono delle more bellissime si è segnata la via degli dei si si è segnata molto bene c'è proprio scritto via degli dei ok ok mi fanno ma tu dove stai andando io sto andando verso Bologna ma guarda che questa è la direzione per Firenze ok quindi mi ha fatto molto piacere questa informazione stavo tornando a Firenze ora sembra di aver ripreso la via giusta ora sembrava bene intanto vi mangio un po' di more dopo 10 km di delirio finalmente ti ho ritrovata un po' di paesaggio della collina toscana via degli dei direzione monte senario questo è un posto magico dove si sente il rumore di campane ma non si vedono sono circondato da... ah eccole a primi 20 km mille metri di slivello zero acqua però questo è un posto magico non so se sentite le campane un po' gioca panne e si continua e si continua a fare la fine a fare la fine un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più una via dell'idea libera interpretazione per me ho seguito tutti i sentieri possibili immaginabili tranne quello giusto però a monte scenario sono arrivato ora mangio qualcosa e poi riprendo fatto solo la trentina di chilometri con 1200 metri di dislivello sono le due e mezzo sono un paio di ritardo ma forse sulla stella giusta ciao finalmente un cartello rassicurante ho tutte le indicazioni sballate la sembra un bel temporale in arrivo proseguiamo andiamo andiamo verso il temporal verso il temporal che bello quando si incontra la gente sentita finalmente dopo 45 chilometri più di 1700 metri di dislivello ecco san pietro a stieve che avrò fatto almeno dieci chilometri in più di strade sbagliate e ora vado a vedere di incontrare paolo ci siamo arrivati a san pietro a stieve questi 45 chilometri che dovevano essere 32 ho avuto un po' di problemi a orientarmi sul percorso qua i ragazzi hanno raccolto solo negli ultimi chilometri due bustoni enormi di di plastica non ha nessun rispetto per quello che ha attorno ma proprio rispetto per niente e andiamo a mangiare buonasera a tutti fine della quarta tappa plastic free walk finalmente siamo arrivati e ringraziamo franco del bed and breakfast la piede che ci ha oltre che ospitato ritira anche il materiale che abbiamo raccolto oggi negli ultimi chilometri arrivando a san pietro a sieve un ringraziamento a tutti e anche a barbara che oggi ci ha raggiunto da ferrara per unirsi e fare qualche chilometro e raccogliere come avevamo detto ci abbiamo provato e come dice il Paolo Monesi oppa plastic free walk grazie a tutti domani ultima tappa arrivo a Firenze ciao